Zlatan l'ho sentito dopo la partita giovedì sera, l'ho sentito ieri sera, sta bene, si sta allenando da casa, molto motivato, si sente con i suoi compagni. Chiaramente la sua assenza ci pesa ma noi dobbiamo essere molto bravi a dimostrare che questa è un'opportunità per la nostra crescita e fare in modo di ottenere dei bei risultati per far sì che quando torni a Zlatan trovi una squadra ancora più forte che a lui serve e che a lui piace.